La serata nel cortile dei musei civici dedicata ai nove anni da sindaco di Matteo Ricci ha avuto come inevitabile chiosa l'idea di prospettiva che lo stesso Ricci ha verso il suo successore a partire da giugno 2024. Nel centro-sinistra ci siano due figure che più di altre hanno le caratteristiche, una è Biancani e una è Vimini. Lo sanno tutti, noi siamo una squadra, siamo una squadra. Il segretario comunale, dove è andato? Bellucci sta parlando con tutti, tutto il 2023 sarà un anno nel quale ascolterà tutti le opinioni di tutti e quando sarà ora arriveremo a una decisione. Ma noi siamo una squadra, chi pensa che qualcuno litighi non ha capito niente, noi siamo una squadra. Se passerà come candidato più forte, più competitivo e più aggregativo Biancani, il primo a sostenere Biancani sarà Vimini. Se invece decideremo che il candidato da sostenere è Vimini, il primo a proporlo sarà Biancani, noi siamo una squadra. Poi faremo le primarie, la coalizione vuol fare le primarie? Facciamo le primarie. I Cinque Stelle vogliono mettere un loro candidato? Bene. I Verdi vogliono mettere un loro candidato? Bene. Altre forze civiche vogliono mettere un loro candidato? Altre forze politiche? Lo vedremo. Ma questo è lo scenario. Dopodiché, ovviamente, Biancani e Vimini devono correre, devono dimostrare, perché questa è la mia opinione. Non è l'opinione, non decido io. Ci saranno gli organismi, ci saranno le primarie. Quindi questa è la mia opinione. Entrambi sanno che devono dimostrare di essere all'altezza se vogliono giocarsi questa sfida.